ragazzi benvenuti in un nuovo video a cazza di cavedani allora primo spot siamo in un canale dentro il mio comune primo giorno di libertà pescato tutto il giorno ho preso niente adesso mi sono spostato e proveremo a cavedani un artificiale un po grosso modificato ci ho messo sotto un piombino da 2 grammi consiglio di liscio grande luca adesso vediamo cavedani qua ci vorrebbe una cosa un po più piccola però intanto proviamo un po di lanci così vada primo spot niente capiamo spot poi non è proprio facile prendere questa ah che piccolino piccolo dove è andato è sparito stavo dicendo non è facile prendere questi cavedani perché sono belli furbi è lì è qua non ti faccio niente cercando la mamma adesso mi attacca pure eccomi ho spiegato tutto di cavedani adesso aiaiaiai aiaiai bella zia ho sbagliato uno aiaiai Oh, finalmente, che bello, che bello, che bello, che spettacolo, spettacolo ragazzi, quello che ci voleva, finalmente un bel cavedano, guarda qua che bel pesce, guarda come se ne è mangiato, bel pesce lò, un cavedanino, in questa quarantena questo pesce vale tanto, veramente tanto, uno spettacolo, uno spettacolo di pesce che puzzerò adesso tutte le mani, ma un pesce pescato con una canna, qualsiasi tipo di pesce è fenomenale, andiamo a rilasciarlo, in i migliori dei modi, perché se lo merita, spettacolo eh, spettacolo. Ragazzi, un pesce, un cavedano, sudato, perché l'acqua si è sporcata per le piogge, non sono molto attivi per il sole, quindi è andata bene, solo un pesce direi che è andata bene. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e un commento qui sotto, se volete altri video simili, basta che me lo fate sapere e io vi accontenterò, ciao!